Musica Benvenuti all'appuntamento con l'informazione su Teletruria. Apriamo con un primo servizio dedicato al Consiglio Comunale. Francesco Francini, il maggiore indiziato a rilevare il posto, lasciato vacante da Franco Scortecci. L'Assemblea è convocata il primo giugno. Il diatro alle quinte del Consiglio Comunale ha portato all'arribata anche le dimissioni da Coingas e di Franco Scortecci. Il sindaco Ghinelli, proprio ai margini della seduta consigliare, ha così commentato la vicenda. Il criterio della scelta sarà sempre quello di persona che è in grado di gestire una società che non ha grandi azioni da fare, se non quella di ricevere e distribuire i dividendi di estra, ma che è comunque una società che per noi è una, tra virgolette, piccola cassaforte, perché una parte delle nostre entrate arrivano proprio dai dividendi di estra. Giustamente, ieri, all'arrivo della lettera che Franco ha indirizzato non solo ai comuni soci, ma anche al Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale ha immediatamente esteso una lettera di convocazione di un'assemblea per il primo giugno, in modo da poter sostituire e rendere più corta possibile l'avacazio dell'amministratore unico. Ma chi sarà il successore di Scortecci in Via Locchi? Rumors danno in ascesa le quote per Francesco Francini, che da poco ha lasciato la presidenza dell'azienda farmaceutica, l'avvocato, l'esperienza politica e amministrativa necessaria per svolgere questo ruolo. Resta da capire come verrà adottato il cosiddetto manuale Cencelli, da sempre vicino a Forza Italia. Francini però avrebbe la nomina da parte del Sindaco, in nome per conto di Oraghinelli. Rintracciato al riguardo anche il Presidente di Forza Italia, Bernardo Mennini, ha ribadito che lo stesso Francini sarebbe solo in quota al Sindaco. Apriamo una parentesi dedicata alla cronaca giudiziaria. Si è conclusa con un patteggiamento a quattro anni la vicenda di Via Benvenuti ad Arezzo, dove una guardia giurata sparò al cognato al culmine di una lite familiare. Ha scelto il patteggiamento e il giudice Claudio Lara in Camera di Consiglio lo ha condannato a quattro anni per tentato omicidio. Stiamo parlando della guardia giurata 44enne che lo scorso 25 gennaio ha sparato al cognato 46enne con la pistola d'ordinanza dopo un pomeriggio di violente discussioni. I due erano nell'appartamento del cognato in Via Benvenuti, con loro anche la sorella del 44enne, nonché moglie dell'uomo ferito operato d'urgenza al Sandonato e il figlio della coppia lievemente ferita ad una mano. La guardia giurata dopo la convalida dell'arresto era ai domiciliari con la possibilità di andare al lavoro ed ora i suoi legali, Piero Melani Graverini e Gianluca Felciai, tenteranno di mantenere questa misura. Torniamo al Consiglio Comunale, altro tema forte, quello della E78, interrogazioni a raffica presentate dai consiglieri Caneschi, Donati e Romizzi sul caso delle bretelle. La risposta dell'assessore Sacchetti e le dichiarazioni del sindaco, anche alla luce del faccia a faccia di 24 ore prima con il commissario Anas. Era inevitabile che quello che sta accadendo intorno al passaggio che verrà della Due Maria di Arezzo stia creando interesse a pressione e polemiche. I vari comitati dei cittadini hanno iniziato ad esercitare pressioni e presentare controproposte. Il Comune di Arezzo non è rimasto alla finestra e le sollecitazioni che sono state presentate dal PD Caneschi, Donati di Scelgo Arezzo e Romizzi di Arezzo 2020 hanno allargato la dimensione del problema che assume una valenza tecnica e al tempo stesso politica. L'Anas ha proposto dei tracciati che a noi non piacciono molto e proporremo anche di spostarli rispetto all'attuale localizzazione ed inoltre nel momento in cui queste bretelle si interfacciano con il raccordo Arezzo-Battifolle c'è una soluzione proposta che non ci convince moltissimo. Quindi siamo sull'ordine di idee di proporne il cambiamento. Cambiamento che può avvenire o in conferenza di servizi nel caso in cui il Ministero non accetti la soggettabilità a via delle due bretelle che per leggere possono farne a meno. Ma siccome il Comune aveva chiesto di sottoporle a via c'è una decisione che deve essere presa. Ricordiamo via per chi ci ascolta valutazione di impatto ambientale. Esattamente, valutazione di impatto ambientale che riteniamo necessaria perché queste strade, queste infrastrutture si stanno adagiando su un territorio che ormai è completamente cambiato rispetto a quello in cui si potevano fare 40 anni fa quando sarebbe stato utile farle. Quindi riteniamo che il Ministero ci venga dietro. Se non ci dovesse venire dietro e quindi non si dovesse passare attraverso la verifica di impatto ambientale c'è comunque la conferenza di servizi nella quale si può comunque proporre soluzioni alternative a quelle che ha proposto l'ANAS. Ed hanno assistito a tutto il dibattito in sala consigliare una folta delegazione di cittadini della zona Lepoggiola-Sanzeno. Il tema delle bretelle è arrivato anche in Consiglio Comunale, c'è stato un dibattito molto in senso e articolato. Che opinione ne tre? Dunque siamo contenti perché abbiamo portato l'attenzione di tutto il Consiglio Comunale sulla problematica, il Sindaco si è personalmente preso l'impegno di attenzionare a questa situazione e quindi siamo molto contenti di questo risultato. Come soggetto i protagonisti vostro mangiato di questa vicenda però dovrete anche costituirvi in comitato vero e proprio. Sì, questo è nei nostri pensieri, questo non era il momento ancora giusto però insomma nella fase procedurale di approvazione del progetto pensiamo anche di costituirci in comitato in maniera legale. Tra l'altro è opportuno anche che difendiate in prima persona oltre che per la delega le vostre esigenze considerando che la situazione sul piatto c'è una problematica molto seria. Sì, assolutamente è necessario portare avanti questo impegno che ci siamo presi. Io non sono direttamente fra gli espropriati però ritengo che la struttura per come è pensata danneggi veramente il nostro territorio e che sia un interesse di tutti i cittadini di Arezzo conoscere questo progetto così come è realizzato e attivarsi perché venga migliorato perché così diventa un'infrastruttura gigantesca, mostruosa che deturpa ma non arreca un effettivo vantaggio. Adesso ci spostiamo idealmente in Romagna, anche il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è all'opera nelle zone colpite dall'alluvione. Tecnici aretini si stanno prodigando per la sistemazione del canale Emiliano Romagnolo. Anche il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è impegnato a dare il suo contributo nelle zone delle mine Romagna colpite dall'inondazione. Dipendenti del Consorzio, oltre a coadjuvare tecnicamente le popolazioni colpite, hanno verificato il corretto funzionamento del canale Emiliano Romagnolo. A loro nello specifico è stato chiesto di monitorare la tenuta e la funzionalità delle opere durante la fase di inversione delle portate verso Bondeno e il Po sul tratto di circa 30 chilometri, compreso tra Galliera e Granarolo Budrio. Il monitoraggio è stato fatto muovendo a piedi lungo i coronamenti dell'argine del canale, in parte utilizzando la sofisticata tecnologia impiegata nella regolazione del canale. I tecnici individuati dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sono l'ingegner Enrico Righeschi e il dottore forestale Matteo Rillo Migliorini. Un contributo dato a una situazione così delicata e un esperimento in fondo importante che si è rivelato prezioso. Infrastrutture, esigenze e opportunità del territorio è il titolo di un convegno che si svolgerà domani alle 17.30 in Sala dei Grandi in provincia d'Arezzo. Interverrà la senatrice Raffaella Paita di Azione Italia Viva insieme al presidente dell'Associazione Arezzo per l'Europa Michele De Angelis e all'ingegner Pietro Cretella. E apriamo la pagina dedicata alla cronaca sindacale. La situazione della FIMER di Terra Nuova ancora una volta è al centro di un incontro tenutosi questa mattina all'interno dello stabilimento. Il nodo da sciogliere è quello relativo ai 10 milioni, cifra che McLaren si è impegnata a versare in attesa dell'omologa prevista ad ottobre. Ma ancora non c'è l'accordo tra il CDA di FIMER e l'investitore. Un nuovo incontro questa mattina per la FIMER, un incontro che ancora non ha dissolto le nubi sulla vicenda. Erano presenti il CDA dell'azienda, i rappresentanti del soggetto investitore, Grey Bull McLaren, le organizzazioni sindacali, il sindaco Sergio Chiene e Valero Fabiani, che segue per la regione toscana le crisi aziendali. Il nodo da sciogliere per lo stabilimento terranovese è quello relativo ai 10 milioni, cifra che McLaren si è impegnata a versare in attesa dell'omologa prevista ad ottobre. Il problema sono le garanzie. Per adesso non c'è intesa fra le parti, anche se questa mattina sono stati fatti dei passi in avanti, ma il tempo stringe. Il piano concordatario nella sua interezza dovrà essere presentato entro il 31 di maggio e dentro il 15 di giugno dovrà essere trovato da una parte l'accordo con McLaren e dall'altro ci deve essere già l'iniezione da parte dei 10 milioni. Se noi non iniettiamo quei 10 milioni, molto probabilmente ci sarebbe un problema anche relativamente agli stipendi per i lavoratori. Abbiamo ribadito alla proprietà che non c'è tempo da perdere. L'accordo serviva ieri, che non tollereremo alcun colpo di testa e non sopportiamo nemmeno più il ritardo che sta impedendo a Greybull di intervenire. Il 31 di maggio dobbiamo avere una risposta che se non c'è le firme su questo accordo almeno siamo vicino a mettercele, perché l'azienda ha necessità di questi 10 milioni. Faremo di tutto per rimuovere gli ostacoli e promuovere l'intesa, ha detto Valerio Fabiani che ha aggiunto. Qui c'è un punto che la credibilità dell'azionista e della proprietà ormai è pressoché vicina allo zero. Siamo qui ovviamente a lottare, lo dico onestamente, ogni giorno perché questo stabilimento possa trovare un presente ed un futuro. Io da sindaco alla responsabilità di tutte le persone che lavorano qui, insieme ai miei colleghi, me la sento tutta addosso. Adesso parliamo di un grande evento, Signorelli 500, è iniziato il conto alla rovescia, oggi l'iniziativa è stata presentata a Firenze. Manca meno di un mese all'inaugurazione ufficiale di Signorelli 500, la mostra dedicata al grande cortonese. Dopo la presentazione romana è stata la volta della presentazione in regione. Con la mostra di Cortona, tutta la Toscana si ritroverà nella valorizzazione di un Signorelli che rappresenta veramente uno dei protagonisti dell'epoca del Rinascimento. Siamo davvero soddisfatti perché l'organizzazione sta promuovendo una mostra internazionale di altissimo livello presso il Museo Ormai. Saranno 30 le opere esposte, ma ci sarà anche un contesto esterno molto interessante. È un grandissimo sforzo da parte della nostra città, lo ricordo, forse il più grande sforzo mai impegnato nella città di Cortona per l'organizzazione di una mostra che vedrà appunto Cortona protagonista a livello nazionale e anche internazionale grazie a numerosissimi prestiti da tutto il mondo. L'integrante della mostra su Signorelli e delle sue celebrazioni è sicuramente per tutto quello che riguarda il genere intorno agli itinerari, sia per quello che riguarda la città di Cortona, sia soprattutto quei luoghi importantissimi e imprescindibili della Toscana e dell'Umbria, ma soprattutto della Toscana, nei quali Luca Signorelli ha lasciato traccia indelebile di sé. Quindi siamo assolutamente vicini per poter dare un supporto, per quanto ovviamente ci sarà possibile, a uno degli eventi più importanti non solo di questo anno, ma di questi anni anche del nostro mandato. La Confommercio e tutti gli esercizi commerciali del territorio di Cortona hanno deciso non solo di aderire, ma di sostenere attivamente la mostra su Luca Signorelli. Provincia di Arezzo ed Università insieme per eliminare gli stereotipi associati al genere. L'obiettivo di un progetto che ha coinvolto 200 studenti delle scuole superiori. È stata la giornata conclusiva di un progetto denominato Mind the STEM Gap, che in italiano, ampliando il significato, potrebbe essere tradotto con «Attenzione al divario di genere». Divario tra uomini e donne nell'accesso ai percorsi scientifici di studio e di lavoro. Il tema è stato analizzato e discusso con un ospite di eccezione, Vincenzo Schettini, il professore della fisica che ci piace. È un progetto in collaborazione con la provincia, in cui la provincia ha dato mandato all'università per una sorta di sensibilizzazione nelle scuole superiori, quarta e quinta superiori, di tutte le vallate della provincia di Arezzo, per sensibilizzare i nostri giovani all'accesso alle materie STEM, quindi materie che mediamente sono accessibili solo o in parte ai maschi. Noi sappiamo che nel 2023 abbiamo nuove professionalità emergenti rispetto alle quali abbiamo bisogno di ragazzi e ragazze che siano preparate ad affrontare il futuro, che è ad alto tasso tecnologico e senza stereotipi e pregiudizi di genere. Facciamo una domanda in duplex, perché questo andrà anche in televisione. Professore, quanto è importante per questi ragazzi, soprattutto, alzare la testa dai libri? Tutto quello che si segue a livello di didattica non è sui libri, ma lo si cerca fuori. In realtà lo studio è un insieme di cose, va portato avanti con un insieme di cose, non ultimo, è quello che hai descritto tu, cioè quello che mi hai detto tu, cioè il collegare quello che io sto studiando a quello che mi circonda, a quello che farò. Rimaniamo in tema di studenti, una mattinata dedicata ai premi per tutti coloro che si sono distinti nelle tematiche sulla violenza di genere ad organizzarla, Semplicemente Donna. Per il premio Semplicemente Donna oggi forse è la giornata più emozionante, perché ci sono i lavori dei giovani, quelli premiati, quelli non premiati, ma tutti sensibilizzati su un tema importante. Beh, devo dire che aver ricevuto 63 lavori da 11 istituti scolastici è stato un bellissimo traguardo e una bellissima cosa. La cerimonia è stata molto emozionante, ma io personalmente mi sono molto emozionata nell'esaminare i lavori che sono arrivati, perché ogni lavoro esprimeva dei significati molto, molto importanti e molto profondi. Gli obiettivi poi non sono mai definiti, bisogna sempre pensare al futuro, quindi se noi nel 2022 siamo riusciti a coinvolgere 11 istituti superiori coprendo tutta la Valdichiana, raggiungendo il Val d'Arno e coprendo tutta Rezzo, l'obiettivo del 2023 è quello di raggiungere tutte le vallate, quindi coprire tutte le vallate. Un premio ospitato orgogliosamente dal Teatro Spina di Castiglion Fiorentino che lo ospiterà anche quest'anno. Assolutamente sì e con grande piacere. Questa mattina ci sono state le prime azioni ed è stato veramente bello, emozionante, perché i ragazzi hanno veramente fatto degli elaborati commuoventi, alle volte ci hanno fatto indegnare proprio per la tematica cruda che è stata trattata, emozionare, ma ci hanno fatto capire che è importante portare avanti questo progetto perché i ragazzi rispondono, perché i ragazzi si stanno coinvolgendo soprattutto il fine del premio a quello proprio della massima divulgazione della tematica, affinché poi si possa arrivare a scongiurare il più possibile questo problema che purtroppo è ancora molto attuale. Continuiamo a parlare di studenti. È una lunga pagina, ma ci sono tante iniziative stamane, all'Auditorium del San Donato, le premiazioni del campionato di giornalismo organizzato dal Quotidiano La Nazione. Con il campionato di giornalismo della Nazione il Quotidiano è entrato in classe. Di più, gli studenti hanno proprio contribuito alla sua realizzazione vestendo i panni dei redattori. Cerchiamo di portare un po' di educazione civica. La scuola insegna cose importanti che ognuno di noi ha studiato, che riguardano la storia e la matematica, però credo che a questi ragazzi faccia molto bene ogni tanto interrogarsi sulla realtà che hanno intorno, non solo apprendendola, guardandola dai telegiornali, leggendola sui giornali, ascoltandola dalla radio, ma interpretandola loro. Devo dire che anche in questa edizione ho visto tante pagine di ragazzi giovani, premiamo le scuole medie, ma insomma di ragazzi che potrebbero fare questa professione per la capacità che hanno di titolare, di approfondire i temi, di fare interviste e anche di disegnare. Soleticare la coscienza civica dei ragazzi è un modo anche per capire come ci si informa in un panorama di proposte sempre più vasto. Forse c'è un eccesso di informazione rispetto a quando eravamo piccoli noi, insomma, in cui gli organi di informazione erano quelli limitati a poche fonti, oggi le fonti sono troppe, alle volte questo crea una confusione o anche disinteresse, perché l'eccesso di informazione crea disinteresse. Quello che cerchiamo di fare noi nei nostri vari canali, che siano la carta ma anche l'online, è quello di offrire la nostra qualità, la nostra passione, il nostro know-how, il fatto che conosciamo questa città da sempre e cerchiamo di interpretarla e non solo di raccontare quello che succede. Ed è stato il palcoscenico del Teatro Petrarca ad accogliere il saggio finale del progetto Cresciamo in Coro, un percorso che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca. Sono stati 300 gli alunni dell'Istituto Comprensivo Piero della Francesca che hanno calcato il palco del Teatro Petrarca per il saggio finale del progetto Cresciamo in Coro, un percorso solidale e inclusivo che ha dato vita ad un coro integrato dove al canto si unisce il linguaggio dei segni LIS. In platea era presente una delegazione della sezione a retina dell'ENS, l'ente nazionale sordi. Questo movimento sincronizzato delle mani, delle mani che indossano guanti bianchi, crea comunque un'atmosfera particolare. Tre i plessi coinvolti, San Giuliano, Indicatore e San Leo. A dirigere il coro il maestro Gianna Ghiori dell'Associazione Voce in Canto che spiega la difficoltà di unire due linguaggi, quello della musica e quello dei segni, sulla carta contrapposti. Questi due linguaggi che in realtà sono molto lontani fra di loro perché uno parla del suono, uno parla del silenzio, quindi apparentemente e in modo oggettivo molto lontani, però che siamo riusciti ad avvicinare proprio grazie alla musica, grazie alla musicalità anche della parola e del linguaggio dei segni. Un'esperienza di crescita per i piccoli cantori, come sottolinea l'interprete Liss, Rachele Vanni. Loro sanno perfettamente che devono seguire il tempo della musica anche con le mani, in modo da dare il messaggio del tempo musicale anche alle persone che non possono sentire. Quindi, come diceva la mia collega, due mondi così lontani si sono avvicinati e i bambini l'hanno appreso in maniera veramente rapida, veloce e con un grandissimo interesse. Dopo cinque anni Francesca Lombardi lascia il testimone di Giovani Impresa di Coldiretti. L'atmosfera stasera è veramente elettrica e movimentatissima perché siamo all'assemblea provinciale di Giovani Impresa, c'è il passaggio di consegne. Francesca, è il momento, è arrivato. È arrivato il momento, purtroppo l'età avanza e quindi stasera abbiamo eletto all'unanimità il nuovo delegato. A questo giro il ragazzo, eccolo qui. Dalla Valtiberina. Io sono James Benedetto di Sansepolcro. Di cosa ti occupi? Qual è il tuo ruolo? Qual è il tuo settore? Noi abbiamo un'azienda agricola che ha aperto nel 2018 con agriturismo principalmente, quindi attività ricettiva, olivi e adesso stiamo impiantando una piccola vigna per iniziare questo percorso. È un'attività di famiglia o sei nuovo del tutto in questo settore? Nuovo, completamente nuovo. Abbiamo comprato la tenuta nel 2017 e nel 2018 abbiamo iniziato con l'azienda da solo. Hai l'entusiasmo oppure sei un po' preoccupato? Un po' preoccupato sì, ma più che altro per i standard che ha alzato Francesca. Però sono sicuro che con questo comitato riusciremo a raggiungere ottimi risultati. Senti, io quelli del comitato molti li conosco, per cui stai tranquillo perché qui hai le spalle. E quindi il tuo ruolo per quanto durerà? Cinque anni. Ripeti il tuo nome così la squadra deve ricordarsi il tuo nome? Io sono James Lewis Benedetto. James Lewis Benedetto, nome importante. Inghilese. La plomb c'è quindi ti auguriamo davvero un bocca al lupo. E Francesca, complimenti per i tuoi cinque anni di lavoro all'Assemblea Provinciale di Giovanni Impresa. Oggi abbiamo conosciuto il nuovo delegato. Alzi la mano chi almeno una volta non si è fermato alla botteghina di Pieve Arranco per gustare i panini al prosciutto e formaggio che Aldo Guadagni preparava con cura e perizia. Oggi il mitico re delle merende ci ha lasciato all'età di 75 anni. Una notizia che ha lasciato interdetti e che ci porta tanta tristezza. La famiglia, le nostre condoglianze, i funerali si svolgeranno domani venerdì alle 15.30 nella chiesa delle ville di Monterchi. Prima di passare alla pagina sportiva curata da Luigi Alberti, uno sguardo a che cosa succederà questa sera su Teletruria, subito dopo il Tg Newsline dentro la notizia che oggi si occupa di sanità e di liste di attesa. Farà seguito 9 e 10 dedicato all'edizione 2023 di Food Street a San Sepolcro dal 26 al 28 maggio. La serata proseguirà con caffè bollente dedicato alla prossima edizione della Giostra del Saracino ospiti Martino Gianni e Roberto Felici. Alle 23 l'appuntamento in diretta in compagnia di Alessio. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.